Stiamo lavorando su questi temi soprattutto perché la mobilità a Padova sia una mobilità più sostenibile, con i trasporti pubblici, anche un progetto importante di colonnine elettriche, quindi incentiveremo quest'anno e prossimo anno la possibilità di acquistare auto elettriche, di arrivare a Padova e trovare anche le colonnine per la ricarica e così devono lavorare le amministrazioni.